Gentili telespettatori, buona giornata. Sentite questa. Parliamo di obbligo vaccinale. Draghi ha il sì di tutti i ministri, compresi i tre ministri della Lega. Dice come? Ma se Salvini sta sbandierando che è contro l'obbligo vaccinale, secondo voi i ministri della Lega vanno contro il capo politico? Io credo che è quasi impossibile. Il ministro non può essere licenziato, casomai deve dare le dimissioni o si fa una mozione di sfiducia. Un ministro della Repubblica non può essere licenziato. In più il ministro prende dei bei soldi, oltre che parlamentare prende anche soldi da ministro e prende un bel 20.000 euro al mese circa. Voi credete che un ministro di un partito va contro il proprio capo politico con il rischio matematico di non essere poi più candidato alle prossime elezioni, di rimanere e passare da 20.000 euro a disoccupato, zero? Secondo voi veramente i ministri della Lega agiscono contro Matteo Salvini? Io credo di no. Io credo ci sia un accordo tra Salvini e i ministri, ci mancherebbe altro. I ministri sono quelli di un partito che sono esponenti di governo, perché quando si parla di governo di cosa si parla? Il governo è formato dal Presidente del Consiglio, dai ministri, dai sottosegretari. Sono circa 65 persone massimo, quelli che si possono definire nel governo. Intanto consiglio dei ministri tranquillo, anzi tranquillissimo. Il parallelo sofferto via libera al decreto Green Pass in Parlamento con la Lega che dopo giorni di tensione e strappi ha votato insieme alla maggioranza. Questo l'abbiamo visto. I ministri del Carroccio non hanno proferito parola durante i 16 minuti che sono serviti per approvare la prima piccola estensione del certificato verde ai lavoratori esterni delle scuole e dell'RSA. Quindi ministri leghisti assolutamente d'accordo sull'estensione dell'obbligo vaccinale. Eppure, nonostante le frenate di Salvini, il Premier non solo conferma di voler allargare la platea che deve utilizzare il lasciapassare lavoro pubblico. Tutto il lavoro pubblico e tutto il lavoro privato vuol dire al 100%, cioè vuol dire tutti i lavoratori che ci sono in Italia. Ma apre una breccia nel muro della Lega. Salvini ha detto obbligo vaccinale? No, non se ne parla. La novità è all'articolo 2 del nuovo decreto, dove è scritto che dal prossimo 10 ottobre fino al 31 dicembre tutti i soggetti anche esterni che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle residenze per anziani devono sottoporsi alla vaccinazione anti-covid. In caso contrario rischiano la sospensione dal lavoro e dallo stipendio. Abbiamo pagato un prezzo altissimo in vite umane tra le persone anziane, ricorda Speranza, illustrando il decreto. Per questo ci è sembrato giusto equiparare i lavoratori dell'RSA ai medici e agli infermieri. I due leghisti presenti, Giancarlo Giorgetti ed Erika Stefani, non dicono nulla. Atteggiamento che non sfugge ai colleghi vista la portata politica della nuova regola. La nuova regola è stiamo estendendo l'obbligo vaccinale, si parla di obbligo, e i leghisti, i ministri leghisti, non dicono assolutamente nulla. È la stessa norma stabilita mesi fa per il personale sanitario. Eppure non è un passaggio banale, ma la conferma che Palazzo Chigi procede nella direzione del massimo rigore e del massimo numero possibile di italiani immunizzati. Speranza dice che non abbiamo paura di dire che l'obbligo è un'opzione in campo. Avanti dunque su questo passo. Estensione del Green Pass più larga possibile. E se la campagna vaccinale non raggiungerà certe cifre, anche quelle poi cambiano di volta in volta, obbligo per tutti. Non solo per i lavoratori, per tutti. Draghi, durante il Consiglio dei Ministri, non arriva a dire obbligo per tutti, però assicura la tabella di marcia sarà rispettata. Cioè lo dice in un altro modo. Per estendere il Green Pass, dice Draghi, al lavoro pubblico e privato serve qualche giorno in più, serve tempo. Dice sono questioni complesse, è necessario adottare un approccio graduale. Sta dicendo faccio un passo alla volta, prima obbligo queste persone, poi obbligo quelli del pubblico impiego che sono di fronte alle persone, poi anche quelli che sono dietro, quelli che sono al piano di sopra, per arrivare a obbligare tutti. Questo è l'indirizzo di Draghi. Quindi un costante, progressivo ampliamento dell'utilizzo del lascia passare settimana dopo settimana. Draghi deve prima costruire il consenso, assicurarsi il via libera di Salvini. Salvini dice no da fuori, ma i ministri dentro non dicono una parola. Non dicono no, noi non siamo d'accordo sull'obbligo vaccinale per nessuno, parliamone, non so, uno si immagina che magari hanno litigato. No, i ministri della Lega non hanno detto assolutamente nulla. E un giornalista chiede a Salvini, una giornalista proprio oggi, dice ma scusi, lei dice che è contro qualsiasi obbligo? Lei è per la possibilità di scelta, soprattutto sull'obbligo vaccinale, e poi in consiglio dei ministri e in Parlamento avete votato per ampliare l'obbligo vaccinale a nuove categorie. Lui non ha risposto, lui non ha risposto, ha cambiato discorso. Draghi però ha fretta, si è un po' stancato, vuole estendere appunto questo lascia passare a tutti i lavoratori della pubblica amministrazione, a tutte le attività al chiuso dove la carta verde è già obbligatoria. Quindi adesso nel prossimo decreto ci sarà obbligatorietà per baristi, ristoratori, camerieri, istruttori di nuoto, non so, quelli che lavorano sul treno, nei cinema, nei teatri, insomma una platea di lavoratori assolutamente grande. Il ministro della cultura Franceschini dice superare queste cose e andare anche lui, dice andiamo verso l'obbligo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video qui sul canale. Grazie a tutti. Grazie.